Tropea non solo mare, questo è lo slogan che ci siamo inventati per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021 di Tropea. Tropea è la città leader del turismo nella corsa degli dèi. La nostra storia ci consente di candidarci a questa bella manifestazione, questo bando del MIBACT che ci sarà negli ultimi mesi del 2020 e che poi ufficialmente verrà designata a questa Capitale 2021. Tropea è storia, Tropea è i fratelli Vianneo che sono i primi due chirurghi rinoplastici del mondo. Già nel 1400 Tropea si faceva la plastica, Tropea è Pasquale Gallupi, un filosofo, Tropea è la storia creata dalle famiglie che sono arrivate da ogni parte del Regno delle Due Sicilie che ancora hanno lasciato il segno a Tropea con i palazzi storici, con le opere costruite, tra cui la Cattedrale Normanna, il Museo Dio Cesano. Tropea significa il grande cinema di Ravallone, 112 film, Tropea significa Albino Lorenzo, un pittore caposcuola di livello internazionale, questo possiamo dirlo. Tropea significa i sapori, la cipolla e altri prodotti DOP, diciamo. Quindi se vince Tropea vince la Calabria. Quindi amici calabresi, qui dalla BIT di Milano, dateci una mano affinché riusciamo in questa nostra bella iniziativa e si riesca a realizzare un sogno. Viva Tropea, viva la Calabria!